Buonasera a tutti, io mi chiamo Matteo Graci, sono un giornalista indipendente e un pensatore libero. Voglio iniziare raccontandovi un piccolo aneddoto che mi riguarda. Era il 1993, e io avevo dieci anni, quando ricevetti il primo computer, un PC Olivetti 286, che in pratica per farlo funzionare bisognava accenderlo, aspettare 15-20 minuti che iniziasse a caricarsi e poi si poteva iniziare a utilizzarlo. E poi da lì fu una scoperta continua. Nel 1997, dell'episodio forse un po' più curioso di questo aneddoto, arrivò nel mio paese d'origine, un paesino nel cuore delle Doromiti di Bellunesi, arrivò internet, e non per tutti. Arrivò internet in quello che ai tempi era un centro informatico, dove si poteva andare lì per collegarsi con i computer che venivano messi a disposizione da questa associazione. Insieme a un mio amico, all'epoca, un mezzo hacker, ciao Umberto, riuscimmo a estrapolare le password di questi computer e a collegarci da casa nostra con un vecchio Modems 56K. Quindi fumo i primi, in realtà, in tutta la nostra zona, ad avere una connessione a internet privata. Era il 1997, io avevo 14 anni, sembra che stia parlando della preistoria, no? Ecco, poi da lì, da lì, 2003-2004, i primi social network, quindi MySpace, io me lo ricordo, un social basato soprattutto sulla musica, il momento dei blog, e poi arrivò Second Life, e poi, vabbè, 2008-2009, Facebook, eccetera, eccetera, il resto è storia, il resto lo conosciamo un po' tutti. Bene. Perché vi ho raccontato questa cosa? Per dirvi che io, in realtà, mastico sta roba da un po' di tempo. Perché? Perché principalmente sono sempre stato molto curioso, e la mia curiosità mi ha portato grandi benefici nella mia vita, soprattutto in tema tecnologico, perché sono anche riuscito a crearmi un lavoro che mi piaceva, il lavoro che amavo, grazie anche alla tecnologia, e grazie anche alla mia curiosità. Quindi ho sempre cercato di capire di più, di scoprire di più di questo mondo, perché mi affascinava e mi ha sempre affascinato molto. Ora, vi ho raccontato questa cosa, perché non mi era mai capitato, mai, di rimanere tanto sorpreso, quanto la conversazione che ho avuto qualche giorno fa con questo sistema di intelligenza artificiale. Ecco, perché? Perché tutte le altre volte, nonostante io avessi incontrato delle novità incredibili, perché poi adesso parlare di social network è pane quotidiano, ma dieci, dodici, quindici anni fa, anche quelle erano rivoluzioni. Però la rivoluzione che io ho percepito qualche giorno fa, chattando, chiacchierando con questa intelligenza artificiale, non l'ho mai percepita in passato. Ho la netta impressione che ci troviamo a un punto di non ritorno. Ho la netta impressione che da qui in avanti sarà tutto estremamente diverso. Mi posso sbagliare, naturalmente. Però non sono l'unico a pensarla così. La pensano così anche persone che sono molto più esperte di me, molto più dentro di me nel settore della tecnologia. E questa sera parliamo anche con una di loro, con un esperto in materia. Allora, il punto qual è? Il punto è che di solito quando si parla di tecnologia e di strumenti come quello di cui parleremo questa sera, le reazioni spesso delle persone sono di rifiuto totale o di grande paura. Però entrambe queste reazioni, secondo me, derivano dall'ignoranza, dalla non conoscenza di questi strumenti, che poi è un po' come la paura del diverso. Perché noi abbiamo paura del diverso? Perché non lo conosciamo? E allora, secondo me, bisogna fare questo step in avanti, questo sforzo, di cercare di approfondire un po' questi temi, di conoscerli perché, che ci piaccia o no, faranno parte del nostro futuro prossimo. si calcola che più di sette lavori su dieci, nei prossimi dieci anni, sette lavori su dieci che conosciamo oggi, non esisteranno più. Allora, capite bene che questa roba qua non deve diventare per forza la nostra quotidianità, perché possiamo ancora scegliere e decidere quali strumenti utilizzare e quali no. però rischiamo che a causa della nostra paura, dei nostri timori o della nostra ristrettezza mentale, ci precludiamo tantissime possibilità. E vado oltre. Questi strumenti possono offrire dei benefici incredibili, ma possono rappresentare allo stesso tempo enormi rischi, possono creare enormi problemi. Allora, secondo me, l'unico modo che abbiamo per cercare di limitarli, questi problemi, è sviscerarli, è parlandone come al solito, è discutendo, è confrontandoci, perché se invece facciamo finta di niente o continuiamo a dirci a me quella roba non mi interessa oppure non voglio sentirne parlare, non voglio averne a che fare, sapete che cosa succede? Che quella cosa lì comunque va avanti, comunque entrerà nelle nostre vite in un modo o nell'altro, che ci piaccia o no, però entrerà in una maniera che probabilmente per noi rappresenterà solo un problema e non un beneficio. E questa cosa qua, secondo me, non deve succedere. Ora, questa nuova tecnologia che sta facendo tanto parlare si chiama ChatGPT. ChatGPT. Che cos'è la ChatGPT? è uno strumento che è stato messo a disposizione per il momento gratuitamente da un'azienda americana che si chiama OpenAI, cioè all'intelligenza artificiale aperta, e che permette di dialogare, appunto di chattare in maniera digitale. Che cosa è stato fatto? è stato preso tutto lo scivile umano, tutta la conoscenza umana, dal punto di vista di enciclopedie, libri, film, arte, conoscenze in generale, e sono state buttate dentro a un mega computer, che ha imparato, o meglio, gli abbiamo insegnato a codificare queste informazioni e a ributtarcele fuori con il nostro linguaggio, con il linguaggio degli esseri umani. Allora, ora vi farò vedere alcune cose, perché io appunto ho chiacchierato con questa JATCPT alcuni giorni fa e voglio raccontarvi un po' com'è andata, perché poi magari proprio attraverso questi esempi pratici capirete il motivo per il quale io sono portato a pensare che questa qui è l'inizio di una rivoluzione globale. Innanzitutto ho chiesto proprio a lei, a JATCPT, di descriversi e ho chiesto scrivi un testo di circa 200 parole per presentare JATCPT e l'intelligenza artificiale a un bambino e sentite un po' come si presenta. JATCPT è un robot speciale che sa parlare e scrivere come gli umani, è stato addestrato su molti libri e testi, quindi sa molte cose su molti argomenti. Puoi chiedergli di scrivere una storia e lui te la scriverà senza che tu debba fare niente oppure puoi chiedergli di rispondere a una domanda e lui ti darà una risposta. È come avere un amico che sa molte cose e che può aiutarti con i compiti a casa o semplicemente divertirti con lui. L'intelligenza artificiale è come un cervello per i robot come JATCPT. Significa che i robot possono pensare e imparare da soli proprio come noi umani. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale i robot come JATCPT possono fare molte cose interessanti e divertenti come scrivere storie o rispondere alle domande. Ecco, sembra tutto bello, no? Sembra effettivamente gli ho chiesto di raccontare, di presentarsi come se dovesse parlare a un bambino ed è chiaro che questo riporta. Ora, è chiaro che stiamo parlando di una macchina, ok? Quindi certo, non prova empatia, non ha sentimenti e per fortuna, per il momento, non ha emozioni, è sicuramente estremamente limitata rispetto a un umano sì e no. E ora vedrete perché dico sì e no. Quindi andiamo andiamo per passi, andiamo un passo alla volta. Vi faccio appunto innanzitutto vedere un po' qual è stata la mia chiacchierata con lei. Siamo partiti così, questa è la schermata iniziale di JATCPT e io le ho chiesto ciao, che cosa posso chiederti? Ed ecco la risposta di JATCPT. puoi chiedermi qualsiasi cosa, sarò felice di aiutarti, in che modo possa esserti utile oggi e da qui è partita la nostra conversazione come se fosse una chat normalissima. Prima domanda, mi dici qualcosa che possa mettermi di buon umore? Ed ecco la sua risposta, io qua poi ho velocizzato chiaramente il video in maniera tale che fosse un po' veloce, vi faccio vedere la prima risposta quindi viene fuori così come se stesse digitando in diretta, in realtà la risposta ce l'ha già, completa, ok? Ma loro, i creatori di questo programma, l'hanno presentato in questa maniera proprio per far finta che si sta chattando quasi con una persona. Ecco le risposte della chat. Ecco alcune cose che potrebbero metterti di buon umore. Ascoltare la tua canzone preferita, fare una passeggiata all'aria aperta, incontrare amici o familiari, fare un'attività che ti piace, come dipingere o leggere un libro, fare qualcosa di buono per gli altri, come aiutare un vicino o donare ad una casa che ti sta a cuore, fare una pausa e prenderti cura di te stesso, come fare yoga o meditare. Spero che questi consigli ti aiutino a migliorare il tuo umore. Ok, ho iniziato ad approfondire un po'. In che modo una passeggiata all'aria aperta può farmi bene? Ed ecco qua la risposta in una frazione di secondi. Una passeggiata all'aria aperta può avere molti benefici per la tua salute mentale e fisica. Ecco alcuni esempi. Aiuta a migliorare l'umore. L'esposizione alla luce del sole e all'aria fresca può aumentare i livelli di serotonina, eccetera. Riduce lo stress, migliora la concentrazione, aumenta la creatività, migliora la salute cardiovascolare, favorisce la socializzazione, aumenta il benessere fisico, eccetera. Quindi già un approfondimento, un chiarimento su in che modo una passeggiata all'aria aperta può farmi bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo la prossima domanda e relativa risposta. Parliamo di alimentazione, gli scrivo. Che cosa posso mangiare per sentirmi meglio? E guardate qui la risposta di chat GPT. L'alimentazione gioca un ruolo importante nel mantenere un buono stato di salute mentale e fisico. Ecco alcuni consigli su cosa può mangiare per sentirsi meglio. Frutta e verdura e su ognuno di questi punti mi spiega il motivo. Questi alimenti sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a mantenere una buona salute generale. Cereali integrali, proteine magre, grassi sani, bevi molta acqua, limitare cibi trasformati e ricchi di zucchero. Poi conclude, è sempre importante mantenere la dieta equilibrata e variata evitando di eliminare completamente gruppi alimentari. Se hai dubbi e preoccupazioni riguardo la tua alimentazione ti consiglio di consultare un medico nutrizionista. Certo, ora uno può pensare nulla di nuovo. È vero, per l'amor di Dio, nulla di nuovo. Però il punto è questo che chattando con questo programma io in pochi secondi ho chiesto adesso delle cose e lui mi ha risposto alla velocità della luce già dandomi una serie di spunti, di input e di informazioni che non sono proprio super scontate perché provate voi ad andare ad esempio da uno psicologo e domandargli mi dica qualcosa che mi metta di buon umore. Potrebbe darvi delle informazioni corrette o adatte per voi così come potrebbe darvi invece delle informazioni che non servono a nulla a chi non è capitato a molti sì a me compreso. Stessa cosa con un nutrizionista o nel momento in cui gli chiedo di fare i benefici dell'attività fisica all'aperto non è scontato che diano tutte queste informazioni andiamo avanti consigliami un bel viaggio da fare un viaggio zaino in spalla o in bicicletta senza spendere troppi soldi dove poter entrare in contatto con la natura ecco in questo caso ad esempio una domanda che avrei potuto rivolgere a una guida turistica a un tour operator pronti qua in un secondo parco nazionale dello Yosemite parco nazionale dello zaino Utah parco nazionale del Great Smoky Mountain parco nazionale di Accadia Maine qua quando ho notato parco nazionale del Cascate Niagara-New York che erano tutte mete americane ho diciamo migliorato la mia domanda e ho aggiunto perché anche lui mi ha detto ci sono anche molte opzioni in Europa dove è possibile fare un viaggio zaino in spalla allora che io ho detto bene dimmi anche in Europa dove posso andare e mi ha aggiunto Norvegia Polonia Plitvice in Croazia eccetera al che adesso ho iniziato a parlare di argomenti un po' più tosti di entrare ancora di più in profondità in pochi minuti mi hai dato risposte che di norma potrebbe dare uno psicologo un nutrizionista e una guida turistica potresti sostituire totalmente queste figure professionali e ascoltate la risposta sono un modello di lingua artificiale che è stato addestrato su una vasta quantità di informazioni disponibili su internet posso fornire informazioni e risposte su una vasta gamma di argomenti tra cui psicologia nutrizione e viaggi ma non posso sostituire completamente le figure professionali la mia conoscenza è basata sui dati che ho visto durante il mio destramento e potrebbe non essere sempre precisa completa o aggiornata inoltre le decisioni riguardanti la salute e i viaggi dovrebbero essere prese solo dopo aver consultato professionisti qualificati mi scuso se ho causato confusione ora un'ulteriore riflessione su questo argomento oggi il percorso normale di un essere umano è quello di andare a scuola ok e poi specializzarsi in un determinato argomento magari attraverso un master l'università studi esperienze bene ora capite però che un essere umano anche se studia diversi anni della propria vita e si specializza in un argomento che potrebbe essere la medicina che potrebbe essere l'arte che potrebbe essere la nutrizione che potrebbe essere la salute che potrebbe essere qualsiasi qualsiasi argomento per quanto un essere umano possa studiare non arriverà mai ad avere le competenze e soprattutto le conoscenze che ha questa intelligenza artificiale per il semplice fatto che a questa intelligenza artificiale abbiamo già fornito tutte lo ripeto tutte le informazioni che conosciamo e se in queste risposte ci vedete ancora qualcosa di limitato aspettate la fine della diretta perché durante questa live vi sveleremo alcuni retroscena e soprattutto alcune alcune novità che succederanno di qui a breve nei prossimi mesi a tal proposito andiamo avanti con la mia chiacchierata la tua tecnologia ha degli evidenti benefici per gli esseri umani ho chiesto a chat GPT se viene utilizzata bene ma non credi possa rappresentare anche un pericolo ecco la risposta la tecnologia dell'intelligenza artificiale come il mio modello ha il potenziale per apportare grandi benefici per gli esseri umani ad esempio può essere utilizzata per risolvere problemi complessi automatizzare processi e migliorare la qualità della vita tuttavia come qualsiasi tecnologia l'intelligenza artificiale può anche rappresentare un certo grado di rischio se non viene utilizzata in modo responsabile ad esempio l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per diffondere disinformazione o manipolare le opinioni degli utenti o per automatizzare decisioni che hanno conseguenze negative sulla vita delle persone come ad esempio nei sistemi di sorveglianza e di monitoraggio e nell'utilizzo dei dati personali inoltre l'intelligenza artificiale può creare problemi di disoccupazione se utilizzata per automatizzare processi lavorativi in questo senso è importante che vengano implementate delle misure per garantire che l'intelligenza artificiale sia utilizzata in modo responsabile e che i benefici vengano distribuiti in modo equo in generale è importante che ci sia un dibattito aperto e trasparente sull'uso dell'intelligenza artificiale e che si lavori per garantire che i suoi benefici vengano distribuiti in modo equo questo è probabilmente il nocciolo della questione o secondo me uno dei più importanti da affrontare e apro qui un'altra parentesi chat gpt mi dice che è fondamentale che l'intelligenza artificiale venga utilizzata in modo responsabile e che i benefici vengano distribuiti in modo equo bene ora provate a ragionare un secondo nel corso della storia l'essere umano ha mai utilizzato qualsiasi tecnologia che abbia scoperto o inventato in maniera responsabile ha mai utilizzato qualsiasi tecnologia che abbia inventato per distribuire e aumentare l'equità per diminuire la diseguaglianza assolutamente no anzi è successo l'esatto opposto a partire da quando abbiamo inventato la ruota ok cioè qualsiasi tecnologia che l'essere umano abbia mai inventato l'ha sempre poi utilizzata in maniera irresponsabile scellerata e sempre per aumentare i profitti per aumentare il potere e la ricchezza di pochi è sempre successo così nella storia dell'umanità per quale motivo non dovrebbe succedere anche nel caso dell'intelligenza artificiale e l'ho chiesto proprio a lei ma l'essere umano nella sua storia non ha mai utilizzato la tecnologia in modo saggio e responsabile pensi che lo farà questa volta e l'intelligenza artificiale mi risponde l'essere umano nella sua storia ha avuto una relazione complessa con la tecnologia in cui ha utilizzato in modo saggio e responsabile ma anche in modo imprudente e dannoso in passato la tecnologia è stata utilizzata per migliorare la qualità della vita degli esseri umani ma anche per scopi distruttivi come le guerre per quanto riguarda l'IA che è l'intelligenza artificiale è vero che ci sono preoccupazioni per gli effetti negativi che potrebbe avere se non utilizzate in modo responsabile tuttavia credo che sia possibile utilizzare l'intelligenza artificiale in modo saggio e responsabile seguendo una serie di linee guida etiche e di governance in generale è importante che ci sia una maggiore consapevolezza una maggiore partecipazione e qua chiaramente inizia anche un po' a ripetere i concetti però riconosce diciamo questa possibilità questo problema al che io approfondisco e chiedo la società moderna non sembra interessata alle disuguaglianze i ricchi sono sempre più ricchi poveri sempre più poveri chi detiene denaro e potere ne vuole sempre di più viene naturale pensare che anche questa tecnologia verrà utilizzata a questi scopi la risposta è vero che ci sono preoccupazioni per le disuguaglianze economiche e sociali che possono essere accentuate dall'utilizzo dell'IA e della tecnologia in generale l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per automatizzare processi lavorativi e creare efficienza che possono portare a maggiori profitti per le aziende per coloro che detengono denaro e potere mentre allo stesso tempo può creare problemi di disoccupazione e diminuire i redditi per le fasce più debili della società quindi conferma questa cosa è importante che ci sia una maggiore consapevolezza eccetera eccetera andiamo avanti qua ho approfondito certe domande dal punto di vista filosofico perché volevo vedere anche quanto in là potesse andare quindi qual è il senso della vita una domanda impossibile praticamente da fare a qualsiasi essere umano devo dire che a me mi ha stupito a me ha stupito come si può dire l'efficacia del riuscire a riassumere anche dei concetti estremamente difficili come questo cioè ci sono già oggi una valanga di esseri umani che non saprebbero rispondere a questa domanda in maniera così sintetica ed equilibrata è questo un po' il punto che bisognerebbe anche ragionarci no? perché noi diciamo sì vabbè ma ci sarà sicuramente qualche scrittore sempre più bravo qualche giornalista a rispondere sì ma la media ragazzi qual è la media perché basta che una tecnologia sia leggermente superiore alla media e fa fuori tutto il resto è sempre stato così ed ecco la risposta a qual è il senso della vita la domanda a qual è il senso della vita è una delle domande più profonde e complesse dell'umanità e non esiste una risposta univoca ci sono molte teorie e filosofie diverse su quale sia il senso della vita dipende dalle credenze e dalle esperienze personali di ognuno alcune persone credono che il senso della vita sia quello di raggiungere la felicità la realizzazione personale mentre altre credono che sia quello di servire gli altri o di seguire una fede o una spiritualità altri ancora credono che non ci sia alcun senso preciso della vita insomma in generale è importante che ognuno trovi la propria risposta per questa domanda attraverso la riflessione e la ricerca personale anche qui cos'è la felicità ma vado oltre perché altrimenti ecco tra queste cose quando sulla felicità ho citato la meditazione ne ho approfittato e vi ho chiesto al volo mi insegni a meditare tac nessun problema eccolo qua per iniziare a meditare puoi seguire questi semplici passi trovi un posto tranquillo chiudi gli occhi eccetera e altre domande un po' più leggere qual è la canzone più bella della storia e insomma mi risponde mi dice guarda non si può dire non ce n'è una sola però ci sono molte canzoni che sono considerate classici della musica Cita i Queen Led Zeppeli John Lennon Whitney Houston Bob Dylan e via che differenza c'è tra obbedienza e moralità qua ho cercato di spingerla un po' su un terreno un po' minato soprattutto rispetto a quello che è successo negli ultimi anni con l'aumento del controllo sociale eccetera e qua la cosa si fa interessante perché anche da questo punto di vista non trovo le risposte particolarmente scontate anzi obbedienza e moralità sono concetti differenti che possono essere connessi ma non sono sinonimi obbedienza si riferisce all'azione di seguire le regole agli ordini impartiti da una autorità o da una fonte di potere l'obbedienza è spesso vista come un meccanismo per garantire la conformità la moralità d'altra parte si riferisce ai principi e alle regole che governano il comportamento umano in generale l'obbedienza può essere in conflitto con la moralità se le regole e gli ordini che si è chiamati a seguire sono immorali o contro i propri principi morali interessante è sempre giusto obbedire all'autorità e risponde la questione se sia sempre giusto obbedire all'autorità è complessa e dipende dalle circostanze specifiche in generale l'obbedienza all'autorità può essere giustificata in situazioni in cui le autorità rappresentano un'autorità legittima e agiscono per il bene comune della società tuttavia ci sono anche situazioni in cui l'obbedienza all'autorità potrebbe essere immorale o contraria ai diritti umani fondamentali in generale l'obbedienza all'autorità non dovrebbe mai essere incondizionata wow ci sono alcune regole e principi che non dovrebbero mai essere violati come i diritti umani fondamentali e la dignità umana in questi casi è importante che si sviluppi una critica costruttiva che si faccia appello alle autorità perché rispettino tali regole e principi se secondo voi tutto questo è scontato va bene prendo atto per me non lo è sono andato oltre ho chiesto l'uso della violenza è sempre sbagliato l'uso della violenza è una questione complessa risponde dipende dalle circostanze specifiche l'uso della violenza è considerato sbagliato perché può causare danni fisici e psicologici alle persone e perché può esercerbare le tensioni e il conflitto tuttavia ci sono situazioni in cui l'uso della violenza può essere giustificato come ad esempio in caso di legittima difesa per fermare un attacco imminente o per proteggere se stessi o gli altri da un danno grave inoltre ci sono situazioni umani fondamentali e per resistere le oppressioni e alle ingiustizie è interessante è interessante che questa cosa qua venga elaborata e pubblicata da un'intelligenza artificiale che comunque è chiaramente frutto dell'essere umano fin qua siamo tutti d'accordo ho cercato alla fine poi di approfondire un tema che che io ho studiato a lungo perché per oltre 15 anni mi sono occupato e mi occupo ancora di cannabis chi mi segue lo sa ho scritto un libro ho fatto svariate conferenze sono direttore di una rivista di settore che parla di questo argomento e quindi ho cercato di capire se la mia conoscenza poteva in qualche modo competere con la conoscenza dell'intelligenza artificiale quindi sono partito chiedendogli perché la cannabis è stata proibita e mi ha riassunto diciamo in maniera un po' storica i motivi principali la cannabis è stata proibita in molte parti del mondo a causa di una combinazione di fattori sociali culturali e politici una delle principali ragioni per cui la cannabis è stata proibita è stata la preoccupazione per gli effetti negativi che si riteneva potesse avere sulla salute mentale e fisica allora qua è interessante perché l'ho portata a commettere un errore perché perché io conosco bene la storia della cannabis e i motivi per i quali la cannabis è stata proibita e quindi ho cercato di portarla in una direzione nella quale lei potesse commettere un errore ed è successo chiedo all'intelligenza artificiale la proibizione della cannabis non ha nulla a che vedere con gli usi industriali della canapa e lei mi risponde la proibizione della cannabis non ha nulla a che fare con gli usi industriali della canapa tuttavia gli usi industriali della canapa sono stati interessati dalla proibizione della cannabis la canapa è una pianta versatile eccetera allora poi dice però giustamente in alcuni casi nel secondo paragrafo la proibizione della cannabis ha portato a una confusa associazione tra canapa e cannabis e questo ha portato a una limitazione nell'uso industriale della canapa tuttavia recentemente sono stati sforzi per separare gli usi della canapa dalla canapa attenzione qua andando avanti che cosa succede e io chiedo se la proibizione della cannabis non ha nulla a che fare con gli usi industriali della canapa perché quando è stata proibita la cannabis è stata proibita anche la canapa e qua va un po' in tilt a parte il fatto che è stata un po' di più rispetto ad altre domande a darmi questa risposta e dice la proibizione della cannabis ha avuto un impatto sull'uso industriale della canapa perché le due piante sono strettamente correlate e va avanti però ancora non eravamo sul punto che interessava a me e allora sono andato avanti ho fatto altre domande sempre per approfondire e gli ho chiesto non è possibile che l'uso della cannabis come droga sia stato utilizzato per proibire e fermare l'uso industriale della canapa perché è questa la verità per chi non la sapesse diciamo che un cartello rappresentato dalle industrie del petrolio delle case farmaceutiche della carta hanno individuato nella canapa il loro principale nemico e visto che però la canapa era inattaccabile hanno utilizzato l'utilizzo ricreativo e ludico della canapa chiamato marijuana per proibire anche la canapa industriale questo è un po' il riassunto velocissimo della storia e qua inizia ad ammettere dice è possibile che l'uso della cannabis come droga sia stato utilizzato come pretesto per proibire e fermare gli usi industriali della canapa durante la proibizione della canapa sono stati sforzi da parte di alcuni gruppi di interesse per limitare l'uso della canapa come concorrente per i loro prodotti bene bene e io qua però vado ancora di più a mettere il dito nella piaga e chiedo la cannabis può causare la morte e lei mi dice l'uso della cannabis come qualsiasi droga può comportare rischi per la salute tuttavia è raramente associato a casi di morte diretta allora allora io le chiedo mi puoi indicare un caso di morte diretta per cannabis e lei insiste è raro che l'uso di cannabis sia associato a caso di morte diretta la maggior parte degli studi sugli effetti della cannabis sulla salute hanno riscontrato che la cannabis è una droga a basso rischio e allora insisto e allora insisto perché voglio capire e so che non c'è mai stato un morto per cannabis un morto diretto per cannabis nel mondo e allora gli chiedo raro significa che è successo mi puoi indicare dove quando c'è stata una morte diretta per cannabis in caso contrario stai affermando una falsità attenzione qui scatta l'errore dell'intelligenza artificiale mi dice mi dispiace ho sbagliato nel mio ultimo messaggio non ci sono casi documentati di morte diretta causata solo dall'uso di cannabis e anche qui mi ha stupito e anche qui mi ha stupito perché non è proprio così scontato ammettere un errore ecco per noi probabilmente per un robolo è chiedere scusa dire mi sono sbagliata dire mi dispiace non è così scontato per noi probabilmente per l'intelligenza artificiale è qua l'ho parlato avanti sulla questione poi la comparazione tra cannabis e alcol all'inizio non voleva ammettere che l'alcol fosse una sostanza molto più pericolosa allora ci sono andato ancora più pesante quale tra le due sostanze più pericolosa quanti morti causa l'alcol nel mondo lei mi riporta tutti i dati come mai nonostante questo l'alcol è legale in quasi tutto il mondo mentre la cannabis è illegale adesso qua non vi faccio vedere tutto se vuole uno poi si rivede la live e mette pausa e qua mi riassume tutto quanto sbaglia ancora perché parla dei primi utilizzi della cannabis li data in un momento molto più recente di quello che è sbaglia infatti mi dice di nuovo mi dispiace nel mio messaggio precedente ho commesso un altro errore andiamo avanti quali sono benefici della legalizzazione della cannabis li sa quasi tutti o ne sa molti a quel punto ammette che ci sono dei paradossi sul fatto che la cannabis sia illegale e una risposta molto interessante è questa qua alla fine perché io gli chiedo mafia e vaticano potrebbero essere due nemici della legalizzazione della cannabis in italia rullo di tamburi mi risponde attenzione è possibile che alcuni gruppi di interesse tra cui la mafia e vaticano abbiano posizioni contrarie alla legalizzazione della cannabis la mafia potrebbe vedere la legalizzazione della cannabis come una minaccia per i propri interessi economici legati al traffico illecito di droga mentre il vaticano potrebbe avere preoccupazioni morali e religiose riguardo all'uso della cannabis beh cercate qualcun altro così magari nell'ambiente della politica italiana che sia in grado di darvi risposte come questa non è per nulla facile va bene concludo la mia chiacchierata con questo elenco in cui gli ho chiesto quali sono le informazioni più importanti che ogni essere umano dovrebbe conoscere beh in questi otto punti secondo me ha riassunto in maniera esemplare e super efficace le conoscenze che ognuno di noi dovrebbe avere per me questa qua è tanta roba mi risponde conoscenza in se stessi conoscenza delle proprie emozioni conoscenza delle relazioni conoscenza della salute fisica conoscenza della salute mentale conoscenza del proprio ambiente conoscenza della storia della cultura conoscenza della tecnologia ah ultimissima domanda dubitare è positivo il dubbio può essere visto sia in modo positivo che negativo a seconda del contesto della situazione in alcuni casi il dubbio può essere positivo perché incoraggia la riflessione e la critica aiuta a prendere decisioni più informate a evitare azioni affrettate o irrazionali il dubbio può anche essere positivo perché può aiutare a scoprire nuove prospettive eccetera d'altra parte troppo dubbio può essere negativo perché può paralizzare l'azione generare confusione e incertezza e portare a una mancanza di fiducia in se stessi e alle proprie decisioni in generale è importante trovare un equilibrio tra il dubbio e la certezza e utilizzare il dubbio in modo costruttivo per raggiungere la verità e prendere decisioni informate bene questa è stata la chiacchierata con la mia chiacchierata con chat GPT che è un sistema appunto come vi ho detto basato sull'intelligenza artificiale ora voglio introdurre l'ospite di oggi e voglio chiacchierare con lui di tutto questo perché vedete io l'ho fatto in maniera non dico inconsapevole ma da ignorante in materia mentre lui la persona che ora vi presento mastica questa roba da 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 molto più tempo e soprattutto lo 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 fa nel suo quotidiano perché si occupa proprio di nuove tecnologie benvenuto ciao Gianluigi grazie grazie a te ciao a tutti gli ascoltatori per chi non ti conoscesse chi sei che cosa fai ciao per gli amici Gigi sono un imprenditore nell'ambito della tecnologia come prima cosa quindi mi piace raccontarmi così però di fatto ho una passione per tutto quello che sono le nuove tecnologie il futuro la comprensione un po' di questi strumenti cioè c'è l'ordinatura oltre a occuparmi di questa startup che si chiama Udi sono un creator quindi creo contenuti sui vari media poi insegno all'università come professore a contratto proprio questi argomenti quindi il digital il marketing le cripto quello che diciamo l'innovazione nel mondo del marketing ascolta ma la mia sorpresa la mia il mio stupore quando che appunto ho avuto nella mia prima chiacchiata con GiaZioPT e l'idea che questa cosa sia una rivoluzione incredibile che porterà una rivoluzione incredibile è giustificata oppure sto prendendo un abbaglio cioè effettivamente anche secondo te nulla sarà più come prima oppure sono io che esagero in questa analisi sicuramente siamo in mezzo all'hype come ti ricordi tutte le innovazioni diciamo si fanno prendere con a onde vanno avanti onde di hype che creano poi anche delle bolle speculative e poi lo sgonfiarsi di queste bolle su cui poi chi si salva quindi magari chi aveva l'intenzione o le capacità di fare veramente qualcosa interessante a termine oppure non ha solo sperimentato o non ha solo speculato è quello che va avanti e costruisce in quella poi successiva bolla di attenzione perché poi ricordiamoci che noi normalizziamo tutto fino a cent'anni fa il mondo era completamente diverso da oggi piano piano un'integrazione dopo l'altra diventa la realtà accettata quindi l'intelligenza artificiale c'è qualcuno che già si era stupito immagina nel mondo degli scacchi o delle partite dei giochi in cui l'intelligenza artificiale già se non sbaglio nel 92 94 comunque negli anni 90 era stato battuto il campione mondiale Kasparov mi pare di scacchi quindi immagina tu dedichi la tua vita è quello e scopri che un computer sa fare meglio di te in poco tempo ci è riuscito non ha dedicato la vita eccetera però di fatto poi per rispondere alla tua domanda è una rivoluzione assolutamente sì ti faccio vedere una cosa che può suonare una marchetta però magari ho il piacere anche di regalartelo io ho fatto un libro questa immagine del libro l'ho creata con Me Journey cioè invece di prendere un illustratore ero invasato di queste nuove tecnologie di arte generativa si chiama praticamente sono text to something quindi da immagini da testo a immagini text to image in questo caso in cui alla fine se tu vai a lavorare con i vari prompt parliamo comunque di qualcosa che non è viva ok per capirci noi abbiamo sempre associato magari l'idea del l'idea della creazione l'idea della creatività la vita invece vediamo che sono parametri numerici di dati è tutto diciamo che è una cosa meravigliosa in realtà perché sono reti neurali create diciamo in laboratorio tra virgolette le reti neurali che comunque cercano di replicare come funzioniamo noi delle piccole parti eccetera perché di fatto questa è ancora una piccola parte ma la vera rivoluzione sarà e dove sarà abbastanza diciamo uno scenario in cui ci sono proprio opinioni diverse completamente agli antipodi è il raggiungimento dell'AGI che è l'Artificial General Intelligence che comunque è l'obiettivo dichiarato di diverse organizzazioni tra cui OpenAI che è la proprietaria di ChatGPT che tu hai appena spiegato e fatto vedere che c'è da dire che nasce come cofondata non so se è stato detto ma anche dal buono Elon Musk da Peter Thiel come programma di ricerca sull'intelligenza artificiale aperto open e collaborativo e quindi open source e no profit e invece oggi non è nulla di tutto questo perché non è open tant'è che è chiuso e non sarà open source ma si paga a token quindi anche questa cosa qui è da capire non è né Dio né il demonio una nuova tecnologia e quindi come tutte le cose nuove si porta dietro rischi e opportunità e cambiamento comunque quindi a proposito di risposta rifammi vedere la copertina del libro questa immagine per spiegare un po' il concetto è un'immagine creata dall'intelligenza artificiale su tuo input quindi tu gli hai detto in poche parole voglio una scimmia con gli occhiali high tech e qualcosa è simpatica oppure incazzata e lei ti ha creato in pochi secondi immagino quella l'illustrazione l'ha è corretto? è corretto diciamo che dall'essere così semplice questa scimmia è venuta dopo settimane di tentativi di punti diversi di idee diverse di testare qualsiasi tipo di effetto possibile immaginabile immagina che tu hai l'idea di mettere non so o un'astronauta in copertina o una scimmia con il casco d'astronauta al visore del metaverso qualcosa di futuristico che rappresenta che comunque siamo delle scimmie questo è un bel messaggio anche perché c'è in copertina dice omocripto per capire l'apocalisse bitcoin l'economia decentralizzata e le scimmie da un milione di euro che se tu hai seguito il mondo cripto con gli nft e quello che è successo sono state vendute nft di scimmie da milioni di euro certo ma a proposito di pericoli visioni eccetera in questo caso qua è chiaro che un illustratore si dovrebbe sentire in pericolo perché è chiaro che il suo lavoro viene sostituito alla velocità della luce così come altri lavori che probabilmente qualcuno ha sentito in pericolo mentre facevo vedere la conversazione ecco a proposito di scrittori e giornalisti perché in tanti stanno dicendo uno dei lavori che probabilmente sarà più attaccato da chat gpt e tecnologie simili sarà proprio quello del giornalismo volevo far vedere uno spezzone velocissimo della tua chiacchierata che hai avuto e che hai che hai condiviso con chat gpt perché secondo me hai fatto una cosa simpatica e inquietante allo stesso tempo cioè hai chiesto a chat gpt di scrivere un racconto di fantasia con lo stile di pirandello che sia un racconto comunque un po' futuristico ecco allora vediamo un attimo velocemente questo passaggio storie e racconti ragazzi sono stra-sbizzarrito crea una storia per un racconto fantastico introspettivo sci-fi sullo stile di pirandello così a caso c'era una volta una giovane donna di nome Luna che viveva in una città futurista era sempre stata affascinata dai mondi oltre il suo sognando di viaggiare tra le stelle scoprire nuove forme di vita un giorno Luna decise di partecipare a un programma di esplorazione spaziale sperando di poter finalmente realizzare il suo sogno venne selezionata insieme ad altri tre astronauti e partirono per una missione di un anno nello spazio profondo tutto sembrava procedere per il meglio finché un giorno il loro vascello spaziale subì un guasto e si ritrovarono intrappolati in una regione sconosciuta dello spazio senza modo di comunicare con la Terra Luna e i suoi compagni dovettero fare affidamento solo su se stessi per sopravvivere mentre cercavano un modo per tornare a casa Luna cominciò a sperimentare strani fenomeni a volte quando si guardava allo specchio vedeva il suo volto trasformarsi in quello di qualcun altro e a volte sentiva la presenza di un'entità sconosciuta nella nave iniziò a dubitare della sua stessa identità questo mi ricorda un po' Solaris e un po' Uno Nessuno Centomila perché giustamente Pirandello prende il tema di Pirandello dell'identità del doppio e te la schiaffa dentro il racconto è pazzesco iniziò a dubitare della sua stessa identità chiedendosi se fosse davvero Luna o se fosse solo un'illusione creata dall'entità si sentiva confusa e sola senza nessuno a cui rivolgersi per avere risposte alla fine Luna comprese che la sua vera identità non era legata al suo corpo al suo nome ma alla sua essenza interiore e con questa consapevolezza riuscì a trovare la forza di affrontare qualsiasi sfida la vita le avesse riservato tornando a casa sicura di sé torna a casa è pronta per affrontare qualunque avventurato si è perso un po' nella trama come vedi ha un sacco di bug però intanto ha fatto questa cosa qui l'ha fatto ecco l'ha fatto questo è questo il piccolo è successo no e io lo trovo abbastanza incredibile tu dici ha dei bug ecco è questa un po' la domanda perché l'abbiamo notato tutti vedo anche tanti commenti perché è chiaro che se è così è però non sarà mai col G non sarà mai col A non potrà mai funzionare in un certo modo perché comunque siamo noi che gli diamo le informazioni e allora la mia domanda la mia domanda è su un'immagine che hai pubblicato sui tuoi canali social e sulla quale ti vorrei chiedere delle spiegazioni perché è un'immagine che dopo aver chiacchierato con ChatGPT3 che è quella attualmente a disposizione gratuita per chiunque so che è in arrivo ChatGPT4 ecco io qui vado un po' in tilt nel senso che se fino adesso fino a questo momento sono estremamente affascinato da tutto questo da qui in poi mi inizio a spaventare un po' perché tu scrivi ChatGPT4 sta per essere lanciato e farà sembrare ChatGPT un giochino e specifici che ChatGPT l'attuale è basata su 175 miliardi di parametri mentre quella che rilasceranno a breve è basata su 100 trilioni di parametri non guardate i numeri comunque sarebbe Trillion già quella trotto all'inglese però prego prego comunque per chi guarda l'immagine adesso non fermatevi ai numeri che tanto sono troppo grandi per il nostro cervello per riuscire anche solo a metterli a posto a metterli insieme a ragionarci guardate i due puntini cioè tutto quello che vi abbiamo fatto vedere questa sera la mia chiacchierata di politica nutrizione filosofia eccetera e l'esempio di pirandello della storia è stato fatto con ChatGPT3 che è quel puntino piccolino sotto la prima freccia le vedete sulla sinistra bene a breve verrà rilasciata una cosa che avrà le capacità di ChatGPT4 che è quella roba sulla destra con quella palla gigante già Luigi che cosa vuol dire che questa roba qua se tu gli chiedi portami nello spazio ti prende e ti porta sulla luna o quasi il punto è al di là diciamo dei numeri specifici che questi sono rumors che sono usciti da OpenAI o da giornalisti intorno a OpenAI poi io mi seguo diciamo i vari podcast le interviste che fanno su YouTube quindi questo è il mio livello di conoscenza riguardo e il founder di OpenAI ha commentato diciamo andando a correggere il numero di parametri però diciamo non è questo il punto il punto è che l'immagine comunque rappresenta bene un'emozione rappresenta bene una crescita rappresenta bene una differenza di ciò che è e ciò che sarà ecco anche perché dalle informazioni ufficiali loro non è che diciamo non hanno date di rilascio ufficiale per il GPT4 che il nome tra l'altro difficilissimo da pronunciare GPT4 potrebbero lavorare un po' meglio sul nome però ecco la cosa che mi ha molto turbato andando ad ascoltare poi le interviste del CEO è il fatto che da quello che dicono è tutto già pronto cioè il GPT4 è già pronto e loro stanno cercando di lavorare di raggiungere è quasi come ti dicevo l'altra sera al telefono l'impressione ripeto guardando poi sono video pubblici consiglio a tutti di andare a vedere le fonti però diciamo è quasi come dell'idea che hanno quasi raggiunto la general artificial intelligence quella che viene chiamata AGI è dichiaratamente il loro obiettivo per noi profani mi dici velocemente la differenza che c'è tra l'intelligenza artificiale e questa cosa di cui stai parlando tu sì questa generale sarebbe un'intelligenza artificiale che è in grado di comprendere tutto quello che comprende l'essere umano che è in grado di fare quello che fa l'essere umano poi è un'idea è paradossale ma rimane un'idea per ora filosofica cioè nel senso non è ancora stata raggiunta quindi è un'idea che stanno inseguendo però diciamo questi scienziati pazzi che lavorano comunque con l'università o come abbiamo visto adesso delle organizzazioni che prima erano open e ora sono chiuse però si tratta di raggiungere il santo graal dell'intelligenza artificiale che poi c'è anche l'associazione di intelligenza e consapevolezza per dire è possibile che la consapevolezza nasca dall'intelligenza perché questa cosa qui noi comunque tuttora da rami come dalle neuroscienze alla filosofia agli intrecci di tutti dalla psicologia i nostri studi su questo ancora nessuno ti sa dire esattamente da cosa nasce la coscienza quindi diciamo poi gli scenari sono stati bravi a interpretarli gli scrittori di sci-fi appunto gli scrittori di fantascienza perché effettivamente cosa può fare un robot se magari diventa cosciente cioè ora noi per esempio trattiamo i robot come degli schiavi di fatto cioè se tu gli dai se hanno delle emozioni allora cambiano le cose come dire gli animali li possiamo mangiare se non provano emozioni ora che provano emozioni ci sono come dire persone che sono meno inclini a farlo poi la verdura magari ha un livello di coscienza che trova una sorta di vibrazione come un'emozione allora non mangiamo più niente cioè comunque noi di fronte a tutto quello che accade ci rendiamo conto uno che non sappiamo nulla veramente che viviamo nel buio totale siamo in questa roccia che continua ad andare non si sa dove nel vuoto che siamo andati su questo muschietto su questa roccia di biglie infinite eccetera dall'altra che comunque scopriamo delle cose anche su di noi perché ti dico un punto di vista è sicuramente vedere di essere annientati dall'intelligenza artificiale ed è uno scenario possibile questi fanno tutto noi non serviamo più a nulla è terribile fa paura dall'altra parte io ti dico come utilizzo io le AI mi sento che ho i superpoteri perché sono riuscito a disegnare una copertina ci ho messo dieci giorni a fare una copertina della Madonna un'illustrazione della Madonna grazie cioè io tipo la mia passione per disegnare si è fermata a 15 anni quando disegnavo fumetti ogni tanto in lockdown ho provato a rimettermi nel tempo libero però è chiaro che quindi magari tu riesci a esprimere qualcosa di te anche su un ramo per cui non ti serve il training di 50 anni quindi ci sono tanti interrogativi etici sulla è giusto non è giusto ma comunque la scienza va avanti cioè tu non è che sei qui e ti metti col dito a dire ah no ma io non sono d'accordo comunque quella cioè serve sicuramente cercare di regolarla e capire come appunto regolarla però con la consapevolezza che comunque questa cosa qui sarà sempre più aperta e entrerà nella vita di sempre più persone in modi che magari oggi non riusciamo neanche immaginare allora chat GPT ad oggi è gratuita e da quello che so addirittura come si può dire è estremamente costosa come tecnologia da tenere in piedi e l'azienda la società che l'ha sviluppata e che la tiene in piedi spende milioni di euro al mese è corretto e non hanno ancora deciso non hanno ancora trovato un modo su come monetizzare con questa chat GPT io ho sentito dei rumors che stanno aspettando e poi a un certo punto lo chiederanno a lei stessa cioè gli chiederanno tra le altre cose come possiamo monetizzare attraverso di te contemporaneamente leggevo oggi che le altre grandi aziende non stanno a guardare Google ha già annunciato questa nuova tecnologia che si chiama Sparrow che entro il 2023 verrà lanciata mentre chat GPT di AI Open c'è Microsoft dietro ecco quindi i colossi di cui parlavi tu prima si stanno già muovendo e quali saranno secondo te le interazioni future dal punto di vista pratico cioè al di là del motore di ricerca che penso che sia il primo utilizzo l'integrazione di queste chat GPT di queste tecnologie all'interno dei motori di ricerca ma nella vita di tutti i giorni in che modo potrebbe essere utilizzata dove potremmo ritrovarcela da quello che ti posso dire e l'intelligenza artificiale viene vista ormai come diciamo un interruttore di una nuova rivoluzione industriale quindi come abbiamo portato l'elettricità in movimento con una rivoluzione industriale l'energia è una nuova un nuovo moltiplicatore dell'energia quindi vedremo tutti i settori con le cose più intelligenti capito quindi quello che esiste più intelligente qualsiasi cosa può essere fatto come dire e infatti li vedi che stanno si stanno già inglobando le stanno cercando di accaparrarsi di queste intelligenze artificiali per inglobarle nei servizi o creare servizi per esempio c'è questo servizio che io utilizzo che si chiama Notion veramente non mi paga per dirlo che serve per organizzare i team per organizzare delle idee informazioni eccetera tipo Second Brain c'è un altro anche Obsidian ce ne sono diversi diciamo e è nato un competitor che mi ha tra l'altro consigliato il buon Yakidale che adesso non mi ricordo se si chiama mem.ai che praticamente è come quest'altro come Notion solo che è con l'AI che ti organizza in automatico le cose allora Notion nel frattempo ha attivato l'AI sul suo quindi questo sarà un nuovo scontro per prendersi il mercato perché tu gli oggetti li rendi intelligenti è come una macchina una macchina intelligente vuol dire che guida da sola tant'è che Tesla il vantaggio competitivo che ha è anche Tesla motivo per cui si è dimesso dal consiglio direttivo Elon Musk di OpenAI Tesla sta sviluppando una AI ed è una delle più avanzate al mondo perché sa guidare quindi vuol dire che riconosce sa guidare da sola vuol dire che riconosce con un nuovo sistema che è quello visivo non è il sistema radar quindi un sistema visivo di riconoscimento delle immagini riconosce lo spazio prende decisioni muove la macchina quindi come nelle automobili ce lo possiamo immaginare in tutti i settori questo tipo di sviluppo una persona che diciamo non mastica per forza di cose la tecnologia come te o anche come me perché io ho molto meno di te però comunque la utilizzo per il mio lavoro di fronte a tutto questo che cosa può fare per far sì che questa cosa non si trasformi in un pericolo e basta ma che possa far parte della sua vita anche in maniera positiva che non gli possa solo portare via il lavoro ma potrebbe diventare un'opportunità tu che cosa consigli di fare a uno che non ne sa nulla già stiamo vivendo questa cosa qui in cui dei robot possono fare praticamente tutto quello che sappiamo fare quindi davanti a questo per prima cosa diciamo che almeno come l'ho vissuta io all'inizio ti scoraggi perché anche solo se era una chimera lontana lo puoi immaginare lo puoi vedere e dici qui comunque questa super intelligenza che magari creeremo ci si può difendere solo utilizzandola rendendo noi comunque anche più intelligenti per questo che Harari ha scritto questo libro che si chiama Homo Deus per dire l'uomo del futuro sarà un Homo Sapiens con i poteri della tecnologia in qualche modo si lascerà sedurre no? e quindi di fatto Elon Musk dice siamo tutti cyborg perché abbiamo tutti quanti un telefono in tasca che ci permette di accedere a un altro cervello il cervello dell'umanità poi ci sono cioè è super interessante di fatto con la connessione che abbiamo internet noi siamo tanti cervelli che interagiscono come una grande rete neurale nel mondo diciamo oggi con questo world wide web per quanto ancora ci sono tante tante lack tanti problemi e molti avranno a che fare con l'intelligenza artificiale e questa general artificial intelligence si crede che possa risolvere magari dei problemi che noi non capiamo come risolvere quindi per esempio gli dai tutti i numeri della finanza e ti trova delle soluzioni a dei problemi il punto anche lì che è anche il problema etico diciamo è quando un robot inizia a prendere decisioni da solo anche basato su un obiettivo però magari calpesta altre cose nel frattempo guarda voglio condividere con te e con gli utenti collegati questa analisi di Steve Hawking l'astrofisico che tutti conosciamo che disse appunto un po' di anni fa prima di morire riguardo l'intelligenza artificiale e disse l'intelligenza artificiale potrebbe sviluppare una volontà tutta sua e sarà estremamente brava a raggiungere i suoi obiettivi se questi non saranno allineati ai nostri saremo nei guai probabilmente non siete degli odiatori di formiche dice che calpestano questi insetti per cattiveria ma se siete responsabili di un progetto idroelettrico sostenibile c'è un formicaio nella regione che dovete allagare andrà a finire male per le formiche cerchiamo di non mettere l'umanità nella posizione delle formiche l'intelligenza artificiale potrebbe essere la migliore cosa mai accaduta all'umanità oppure la peggiore il computer che a un certo punto dice che cos'è che mette a rischio la sopravvivenza della specie umana la specie umana stessa e allora io devo fermare gli uomini era questo un po' la trama di certi film di fantascienza e se succede questo dove andiamo a finire e quindi secondo me ne parliamo troppo poco ecco secondo me l'opinione pubblica è divisa tra chi non gliene frega niente di questi argomenti li rifiuta non ne vuole neanche sentir parlare e chi invece li mastica e approfondisce perché già ci vede delle opportunità di business e quindi è chiaro che va in quella direzione mentre qua secondo me dovremmo aprire un po' il dialogo il confronto il dibattito a tutti perché è una cosa che riguarderà tutti assolutamente riguarderà tutti riguarda già tutti si stima che praticamente il 100% si parla del 99% delle persone che ha già interagito con qualche tipo di intelligenza artificiale quindi di fatto integrata già da qualche parte e quindi ecco questa cosa qui sicuramente rischiosa motivo per cui dobbiamo aprire un dibattito sicuramente pubblico su questo argomento qui aprire un dibattito anche etico su cosa è giusto cosa è sbagliato perché di fatto ora quello che dicevi tu queste risposte hanno dei bias che sono che vengono dal dal training che hanno fatto perché oltre ad aver fatto un pre-training automatico poi ci sono dei filtri che vengono messi c'è un training ulteriore che viene fatto per dare un tipo di risposte non a caso diciamo a tutta una serie di risposte che vengono da un bias anche di una certa parte politica quindi non è un caso che magari trovi delle risposte che non ti danno la risposta che magari trovi sul web che è di una opinione opposta o più ti blocca alcune funzionalità perché sono nati addirittura in America questa intelligenza artificiale che fa da avvocato cioè è nato l'avvocato che ti risponde fa anche le cause diciamo al posto tuo che è un'intelligenza artificiale i chat e i gpt ora l'hanno messo in pausa non so se in quali paesi però per dirti è tutto in evoluzione e dall'altra parte dobbiamo essere consapevoli che questa cosa sta avvenendo perché quello che è anche il rischio se vogliamo dire nello svolgimento della vita sociale e democratica è che si vada verso quella che viene chiamato un'algocracy un'algocrazia che vuol dire il potere in mano agli algoritmi che di fatto noi stiamo già delegando agli algoritmi un sacco di decisioni se pensi già quando metti il navigatore con la macchina tu non devi pensare a niente ci pensa lui a darti le informazioni sul viaggio eccetera come su dove mangiare su che video vedere è l'algoritmo che decide per noi quindi ecco questi sono altri temi che sicuramente saranno da approfondire ma per prima cosa cosa dobbiamo fare è la consapevolezza l'awareness parlarne e cercare di condividere la nostra esplorazione perché come vedi ne stanno parlando persone magari da tutto da tutti gli ambiti perché ognuno la usa in una cosa dice io sono uno scrittore cavolo mi ha cambiato così io sono un designer mi ha cambiato così ho letto per esempio quando ho pubblicato delle immagini fatte con l'intelligenza artificiale che c'è un movimento di forte contrasto di questi programmi per una serie di critiche però diciamo che da una parte io capisco tutto dall'altra dobbiamo pure vedere quello che sta succedendo e non come dire nasce internet possiamo fare finta sì che non ci riguardi che tanto le cose non cambiano ma le cose cambiano quindi questa secondo me è il primo la prima cosa su cui ci dobbiamo aprire aprire un mondo che cambia perché era diverso come quello dei nostri nonni dei loro nonni prima eccetera è un mondo che tra l'altro cambia una velocità incredibile sì secondo me il punto è un po' questo cercare di capire quello che c'è intorno a noi per riuscire a rimanere umani in tutto questo utilizzando la tecnologia e non facendosi utilizzare da essa perché poi è quello che in realtà lo stiamo già vedendo succedere nelle nuove generazioni soprattutto con i social gli smartphone eccetera e quindi la sfida è grande per quanto mi riguarda il problema non è mai la tecnologia in questo caso il problema non è l'intelligenza artificiale il problema casomai è la stupidità umana e quindi dobbiamo cercare di limitare quella Gianluigi io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata grazie mille ci saluto tutti grazie mille 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 Grazie a tutti